Chiauci 204 abitanti, 191 residenti votanti, oltre il 90% della popolazione anziana, nessuna lista presentata, ne consegue Chiaottobre al sindaco. Sub entrerà il commissario, una sconfitta per tutto il Molise, nostra inchiesta. Tra una settimana prenderà il via il nuovo anno scolastico e sono ancora tante le criticità da affrontare, la CGL focalizza l'attenzione su trasporti e sicurezza e domani incontra la stampa, Aiserne il Comitato Scuole Sicure chiede il confronto ai candidati sindaci. Una campana speciale per Vasco Rossi, l'opera realizzata dalla millenaria Fonderia Marinelli, la Rockstar invitata a visitare Agnone. Edilizia residenziale, 600 mila euro ai comuni di Sernia e San Pietro Avellana per recuperare il patrimonio edilizio e destinarlo ai soggetti fragili. Ne abbiamo parlato con il sottosegretario Roberto Di Bante. Turisti americani a Termoli, è possibile grazie al tour operator Rem Melloy che apprezza molto la cittadina molisana e le qualità culinarie della nostra terra, fino a 200 turisti a stagione, ha detto ai nostri micro. E fino allo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso, il difensore Fabriani chiede scusa dopo la leggerezza commessa contro il Taranto, ma rischia tre giornate di squalifica, squadra a rapporto da Cudini, serve maggiore lucidità. Buon pomeriggio e bentrovati con la nostra informazione. In apertura ci sono le elezioni amministrative. Questa mattina siamo stati a Chiauci, 204 abitanti, 191 residenti, votanti, oltre il 90% della popolazione anziana e nessuna lista presentata. Nei conseglie che ad ottobre al sindaco subentrerà il commissario. Una sconfitta per tutto il Molise, nostra inchiesta, sentite Nicola De Santis. Chiauci è l'unico comune del Molise ed uno dei pochissimi in Italia a non aver presentato liste elettorali. Dopo la scadenza naturale del mandato, al sindaco subentrerà il commissario prefettizio. 204 abitanti, 191 aventi diritto al voto, oltre agli iscritti dell'Aire. Chiauci è uno dei più piccoli paesi della provincia di Sernia. Gli anziani rappresentano, oltre il 90% della popolazione residente, un declino demografico che sembra inarrestabile anche a causa delle condizioni della Trignina, che stanno favorendo l'isolamento dei paesi che affacciano sulla faticente statale. Il primo cittadino di Chiauci è Alessandro Di Leonardo, sotto ufficiale dell'arma in pensione, 66 anni, eletto sindaco 6 anni fa, con 85 voti. Io l'avevo predetto da tempo, ormai sono mesi, forse anche di più di qualche anno, che non mi sarei ripresentato perché ho vissuto un'esperienza che mi ha onorato per il servizio che ho potuto fare nei confronti della mia popolazione, l'ho fatto con tutto il cuore, ma sono stanco, non ce la faccio più, non si può operare in queste condizioni. Noi non abbiamo dipendenti, non abbiamo una struttura operativa, i fondi che lo Stato trasferisce sappiamo bene che sono sempre di meno, quindi non puoi assumere. Ditemi voi, io sono costretto a fare il factotum dal messo all'operaio. Questa è stata la mia vita in questi 5 anni e mezzo. Poi è chiaro che c'è sempre parte della popolazione che non condivide, ma a me non interessa perché io vivo di sincerità, di realtà. Si sente abbandonato dalle istituzioni? Io dalle istituzioni mi sono sempre sentito abbandonato, l'ho detto anche in altre interviste, perché le istituzioni a qualsiasi livello non tengono in considerazione la figura del sindaco, il sindaco è un factotum sul quale ricadono tutte le responsabilità di questo mondo. Noi con pochissimi soldi, perché noi non percepiamo stipendi, io l'ho dichiarato ai 420, io lascio tutto al comune, ho gran parte perché percepisco 330 euro al mese, questa è la somma che mi viene data e la utilizzo per i consumi di nafta e per qualcosa che serve sul comune, o per pagare il caffè al geometra piuttosto che l'ingegnere o l'architetto. Rispetto a un consigliere regionale sono circa 10.000 euro in meno. Ma di più, sono di più, sono molte di più, ma ti dirò di più, guarda perché io poi le chiacchiere non le dico, questi sono tutti scontrini del sottoscritto, io non ho mai chiesto un rimborso, non ho mai preso un rimborso dal comune di Chiauci. In piazza in questi giorni si vede ancora in giro un po' di gente, quando le condizioni meteorologiche peggioreranno il paese rimarrà di nuovo malinconicamente deserto, di sicuro l'assenza di un primo cittadino non fermerà l'inesorabile spopolamento. L'unico paese in Molise che non ha presentato liste è Chiauci, è triste come constatazione. Sì, è molto triste come constatazione perché non si è riuscito a dare seguito all'ottimo lavoro svolto da questa amministrazione, però in questo momento presentarsi a delle elezioni è una scelta complicata perché i sindaci sono lasciati molto soli, quindi lavorare in solitudine, senza una mano è molto complicato anche per paesi piccoli proprio come quello di Chiauci. Il commissario è una persona che sicuramente è estranea alla conoscenza dell'ambiente che vivono i chiaucesi, è un cittadino di Chiauci, sicuramente è a conoscenza anche delle esigenze a livello singolo, non solo plurale della collettività e presumo che sarebbe opportuno, sarebbe stato opportuno che si fossero presentate delle liste, però non si è verificato e non riesco a capire il motivo. Tanti si sono posti questa domanda, però nessuno è riuscito a darsi una risposta e quindi non siamo in grado, almeno io, non sono in grado di darla a nessuno. Tra una settimana prenderà il via il nuovo anno scolastico e sono ancora tante le criticità da affrontare, a dirlo è la CGL che chiede celerità sul fronte trasporti e su quello dei organici. Intanto il Comitato Scuole Sicure di Isernia chiede il confronto ai candidati alla carica di sindaco. Ci racconta tutto Andrea Vertolo. Manca poco al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico ed è arrivato il momento in cui si analizza ciò che è stato fatto e ciò che invece è ancora da fare sul fronte della sicurezza degli edifici. A Isernia il Comitato Scuole Sicure sollecita gli enti preposti al fine di trovare soluzioni efficaci. Molti traguardi sono stati raggiunti in questi ultimi cinque anni, dicono i rappresentanti civici, ma c'è ancora tanto da fare. Le amministrative nel capologo Pentro rappresentano così un'opportunità di confronto sul tema. Confronto che il Comitato apre a tutti concorrente alla tornata elettorale. La proposta è quella di non disperdere tutto il lavoro svolto dalle passate amministrazioni dal 2002 in poi e di portare avanti costantemente i progetti in corso. Oltre alla sicurezza delle strutture c'è poi da pianificare con estrema urgenza la situazione sul fronte dei trasporti e degli organici in tutta la regione. In questa direzione arriva il campanello d'allarme della CGL che evidenzia il netto ritardo sul ruolino di marcia. Il 95% del personale della scuola, afferma il sindacato, ha completato il ciclo vaccinale ma adesso bisogna lavorare sul precariato e appunto sui trasporti pubblici che saranno utilizzati dagli studenti. Proprio sul tema è stato convocato una conferenza stampa che si terrà domani alle ore 10 presso il saloncino Arturo Giovannitti in via Mosca a Campobasso. All'incontro parteciperà anche una delegazione di rappresentanti dei lavoratori delle scuole provenienti da tutto il Molise. La situazione del coronavirus, solo 4 contagi di positività al 3-9% ma ci sarebbe un nuovo cluster a Ripali Mosani, 4 le persone positive. Il focolaio sarebbe partito da una vacanza all'estero di una famiglia e sarebbe previsto uno screening tra i partecipanti ad un campus estivo. Valentina Ciorlano. 4 casi di coronavirus su soli 102 tamponi processati. Come ogni fine settimana l'ASREM ha analizzato pochi campioni da cui sono emersi un nuovo contagio ad Agnone, uno a Venafro, uno pure a Monte Falcone nel Sannio e uno a Santa Croce di Magliano. Il tasso di positività scende quindi al 3-9% rispetto al 5,8% precedente. Fortunatamente la giornata di respiro non ha fatto registrare nuovi ricoveri né decessi e la terapia intensiva continua a essere covid free. Restano 13 i pazienti affetti dal virus al cardarelli, tutti in malattie infettive e la maggior parte non risulta vaccinata. Aspetto questo che ha indotto le autorità sanitarie a intensificare la campagna di informazione per sciogliere quanti più dubbi è possibile tra chi risulta scettico. Mentre sono 9 i guariti di giornata agli attualmente positivi risultano 258 in tutta la regione. In isolamento 2336 persone. Ed ora un video straordinario. Vediamo le immagini che riguardano Vasco Rossi che da oggi ha una campana a lui dedicata. L'opera è stata realizzata dalla millenaria pontificia Fonderia Marinelli di Agnone che da secoli produce campane per le chiese di tutto il mondo. Nel corso del fine settimana uno dei titolari Pasquale Marinelli ha consegnato la speciale campana direttamente nelle mani della rock star Castellaneta in provincia di Taranto dove il cantante sta trascorrendo le vacanze. Vasco ha molto apprezzato e si è fatto immortalare in questo video e in queste foto che poi lo stesso Vasco ha pubblicato sui profili social. La famiglia Marinelli lo ha invitato a visitare la Fonderia in Molise che ogni anno viene visitato oltre che da tantissimi turisti anche da molti personaggi famosi. Sulla campana è stato inciso il nome Vasco. La CEMANCE esprime soddisfazione per il trasferimento da parte della regione di risorse pari a 3 milioni e 600 mila euro a conguaglio della tranche dell'anno scorso per i lavori della ricostruzione post terremoto che consentiranno all'agenzia regionale post sisma, anch'essa sempre solerte e disponibile nei riguardi delle imprese e delle associazioni, di avanzare con i pagamenti. Ci confidiamo nel cerere di trasferimento delle spettanze alle imprese, dichiara il presidente dell'ACEM do Corrado di Niro che avevano enorme bisogno le imprese di una boccata di ossigeno per consentire ciò così di andare avanti nei lavori e giungere quanto prima al completamento della ricostruzione del 2002. Restiamo sul campo dell'edilizia perché ci occupiamo ora di edilizia residenziale, 600 mila euro ai comuni di Sernia e San Pietro Avellana per recuperare il patrimonio edilizio e per destinarlo ai soggetti fragili. Ne abbiamo parlato con il sottosegretario Roberto Di Baggio. Sentite. Ammontano oltre 600 mila euro le prime risorse assegnate al Molise dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, somme per sostenere interventi di edilizia residenziale sociale. Due comuni che sono stati inseriti nella prima fase di diparto su scala nazionale, il comune di Isernia per 500 mila euro e quello di San Pietro Avellana cui sono stati assegnati 167 mila euro. Successivamente altri comuni saranno destinatari di ulteriori risorse messe a disposizione per tali tipologie di interventi. Di qualche giorno fa il decreto definitivo con cui sono stati assegnati oltre 600 mila euro alla regione Molise, i cui destinatari sono il comune di Isernia per 500 mila euro e il comune di San Pietro Avellano per circa 200 mila euro. Sono fondi importanti che servono per ristrutturare, adeguare gli edifici e le case di proprietà comunale da destinare ai meno ambienti e alle persone bisognose. Le risorse giacevano nei fondi gestiti da cassa depositi e prestiti e sono destinati ad interventi ricadenti nella tipologia di consumo di suolo pubblico, con operazioni in grado di recuperare il patrimonio edilizio già esistente volte ad eliminare situazioni di degrado abitativo. I comuni potranno pertanto finanziare interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, di proprietà comunale, che possono essere messi poi a disposizione delle famiglie per garantire una buona qualità dell'abitare, anche con la realizzazione di spazi destinati alla collettività e di utilità sociale e quindi conseguente eliminazione di situazioni di degrado urbano, familiare e sociale. Soddisfatto il sottosegretario Roberto Di Baggio. Le unità abitative saranno ristrutturate con le nuove normative, adeguate pure dal punto di vista energetico e quindi si darà a breve la possibilità di recuperare ad esempio sui segni a tutte quelle case nel centro storico di proprietà comunale da destinare alle famiglie bisognose, che ce n'è veramente bisogno. Le opere possono essere cofinanziate da soggetti privati per una quota pari almeno al 20% del finanziamento assegnato, devono avere caratteristiche di alta sostenibilità ecologica e devono prevedere interventi di efficientamento energetico per garantire un elevato standard di qualità. Sono previste inoltre agevolazioni per la popolazione fragile, nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie, studenti fuorisede, anziani in condizioni economiche svantaggiate. D'ora la cronaca un'ultima ora a Montagano, vigili del fuoco in azione per spegnere un incendio al capannone del riciclo della carta. Capannone che contiene 2000 quintali di carta sul posto di una squadra dei vigili del fuoco di Campobasso. I lavori di spegnimento sono in corso. Sono stati completati in questi giorni dall'amministrazione comunale di Campobasso i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali comunali di Via Toscana concessi in uso a Laserem. Si è trattato di interventi per effettuare alcuni adeguamenti logistici dei locali messi a disposizione del distretto sanitario di base al fine di potenziare e migliorare i servizi e risolvere problematiche legate soprattutto alla suddivisione degli spazi che l'utenza e gli stessi operatori sanitari erano costretti da anni ad affrontare. Ha spiegato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. I lavori hanno permesso di rinnovare le dotazioni strutturali, ammodernando anche gran parte degli arredi, garantendo soprattutto una migliore accessibilità ai locali. Nello specifico abbiamo operato la demolizione e il rifacimento di partizioni interne, aggiunge Gravina, la demolizione e il rifacimento di pavimenti e massetti per servizi igienici, la sostituzione di apparecchiature idrosanitarie, la rimozione di porte interne e completato il tutto con opere di tinteggiatura e finitura. Cambiamo argomento, turisti americani a Termoli è possibile grazie ad un tour operator che apprezza molto la cittadina molisana, apprezza molto i prodotti della terra del Molise. Fino a 200 turisti a stagione, ha detto ai nostri microfoni Rem Melloi, lo ha intervistato Emanuele Bracone mentre il servizio è di Valentina Cirlante. Si è concluso a Termoli, nella splendida cornice del Borgo Antico, il viaggio tra le residenze diffuse del tour operator americano Rem Melloi, che negli ultimi giorni ha visitato numerose località del Molise. Il suo gancio sul territorio molisano è Nicola Malorni, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e consigliere comunale di Termoli. Proprio attraverso le tante iniziative legate alla filiera dell'olio si sta promuovendo il Molise e Mr. Melloi, che rappresenta l'agenzia di Seattle Real for Italy, ha apprezzato proprio questo prodotto, oltre al patrimonio artistico e archeologico e naturalmente al mare del Molise. Sono almeno 200 gli statunitensi che l'agenzia nordamericana porta in vacanza nella piccola regione. E Rem Melloi conosce bene il Sud Italia, anche perché sua madre è originaria di Cava dei Terreni, entusiasta al termine del tour, come si evince dall'intervista che ha rilasciato al collega Emanuele Bracone. Io arrivo in Molise con lavoro per nuovi progetti con clienti americani, arrivo qui per gastronomica, olio, castelli, piccola città, mare. È nuovo per gli americani. Quindi diciamo abbandonano le grandi mete come la Toscana, vogliono altri territori? Per gli americani. Per gli americani? Per gli americani, tre grandi, Venezia, Toscana, Firenze, Roma. È finito. È un piccolo per il Sud Italia. Quindi è una nuova opportunità per il turismo qui. Piace il Molise? Sì, sì, sì. Molise liking? Sì, buono, buono, buono. Il mare, il castello, l'olio, olio, fantastico, fantastico. È nuovo per me. A proposito di turismo, è stata una stagione estiva entusiasmante all'Oasi WWF di Guardia Reggio a Campochiaro con le ultime escursioni, attività ed eventi in programma nel calendario 2021. È terminata una stagione entusiasmante. Si legge in una nota ufficiale per qualità e quantità delle proposte, ma soprattutto per l'alto numero di visitatori e la variegata provenienza di essi da quasi tutte le regioni italiane, con tantissimi appassionati anche dal Nord Italia, che hanno oltremodo apprezzato le attività nell'area protetta, Matesina, con 31 eventi calendarizzati nei mesi di luglio e di agosto, sempre sold out, al massimo delle presenze consentite dal numero chiuso causa Covid, più le quotidiane visite guidate di routine organizzate lungo i sentieri della riserva. L'estate 2021 ha presentato un vero e proprio boom di presenze per l'area protetta molisana del WWF, con visitatori che hanno portato a triplicare le normali presenze estive all'Osi, con ampie ricadute su tutte le attività ricettive e di ristorazione presenti nei borghi di Guardiareggia e di Campochiaro. Cambiamo argomento. La famiglia fa buon sangue e crea solidarietà. Ottimi riscontri per l'evento Avis-Isernia, onorata la memoria di Silvia Pizzanelli e l'opera svolta dagli ex presidenti per la donazione, tutti i particolari, della manifestazione che si è svolta ieri nel Capologo Pentro. Il ricordo di Silvia Pizzanelli, la piccola isernina di 12 anni andata via troppo presto che illumina il cammino di chi l'amata. L'omaggio agli ex presidenti dell'Avis, artefici di un'opera solidale i cui frutti si vedono anche a distanza di anni. L'aggregazione tra i cittadini nel segno del non profit. Queste sono le principali componenti della manifestazione svolta si ieri nel Parco Stazione di Isernia su iniziativa dell'Avis comunale. La famiglia Fabbon Sangue ha consentito di radunare nel polmone verde del Capologo Pentro decine di persone che rispettando il distanziamento e l'obbligo del Green Pass hanno trascorso un pomeriggio diverso tra riflessione e divertimento. L'evento, come previsto, ha preso il via con la consegna di una targa da parte del presidente dell'Associazione Sergio Di Vincenzo e della direttrice del CSV Molise Lorena Minotti a tutti i ex presidenti Salvatore Forte, Mario Farina, Carmelina Sferra, Anna Maria Maddalena, Mirella Perluzzo, Gianfranco Massaro nonché alla famiglia del compianto Domenico Pellegrino fondatore dell'Avis. Abbiamo voluto dedicare questa manifestazione alla piccola Silvia Pizzanelli perché già da piccola era impegnata nel volontariato. Purtroppo nessuno potrà restituirci questa bellissima bambina ma vogliamo che resti vivo il suo ricordo. Il nostro augurio è che questa manifestazione possa avere una sua continuità e in questo modo idealmente tutta la comunità di Sernia abbraccia la famiglia di Silvia per dirle noi vi siamo vicini così come Silvia era vicina al volontariato. Con questa manifestazione vogliamo naturalmente sensibilizzare tutta la comunità alla donazione del sangue. Un gesto molto importante ma che è anche un suo tornaconto positivo se vogliamo. Donare il sangue significa sottoporsi gratuitamente a una serie di analisi. Devo dire che in Molise, in tutta la regione, le cose vanno decisamente bene. C'è stata autosufficienza di sangue anche durante l'estate quindi va bene così ma possiamo sempre fare meglio. Il sindaco di Sernia Giacomo D'Apollonio e gli assessori Eugenio Chianischi, Domenico Chiacchiari e Pietro Paolo Di Perna sono stati nominati ambasciatori Avis e un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Croce Bianca ai dottori Mirella Perluzzo e Fernando Crudele che si sono occupati del servizio medico all'Ampi e al referente Cosmo di Pasquale e ai volontari che hanno partecipato fattivamente contribuendo alla riuscita dell'evento. La responsabile del centro trasfusionale dell'ospedale veneziale di Isernia, Matilde Caruso, ed il presidente Massaro hanno sottolineato l'importanza del ruolo che l'associazione ha saputo ritagliarsi e quanto oggi l'Avis rappresenti un faro per tutto il mondo del volontariato. Le donazioni sono state numerose, così numerose da consentirci di aiutare anche le regioni limitrofe come la Campania, il Lazio e la Puglia. È stato davvero un piacere vedere i centri trasfusionali riempirsi e soprattutto grazie alla capillarità dell'attività delle associazioni dei volontari del sangue e in particolar modo l'Avis che copre tutta la rete della regione molise è stato possibile avere veramente un numero di donazioni che hanno consentito di sostenere tutte le urgenze che d'estate non si riducono. I progetti di sensibilizzazione e le continue attività promosse in ogni angolo del territorio hanno fatto in modo che si incrementassero le donazioni di sangue e che tuttora venga costantemente garantito un supporto indispensabile al sistema sanitario del Molise. Durante la giornata è stata messa a dimora una pianta di ulivo in memoria di Silvia Pizzanelli e sono state raccolte le prime 300 firme a supporto della petizione che verrà presentata all'amministrazione comunale per chiedere l'intitolazione di una piazza alla bambina scomparsa prematuramente il 9 ottobre 2020. Ultimo atto della serata il teatro, la compagnia Cast di Sernia ha portato in scena due spettacoli esilaranti pittore di un morto vivo rivolto soprattutto ai bambini e la scampagnata dei disperati. Bene, questo era il nostro ultimo contributo, ora vediamo che tempo farà sul Molise domani con il nostro Meteo. Il Meteo è presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Previsioni del tempo per martedì 7 settembre, mattinata soleggiata in tutta la regione, nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi, venti deboli, mare poco mosso, queste le temperature nel dettaglio, campo basso minima 15, massima 24, i Sernia minima 16, massima 27, i Sernia minima 22, massima 26, i Venafro minima 16, massima 24 gradi. Il Meteo è stato presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Bene, linea alla regia, l'informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante. Dicevo, linea alla regia, subito dopo la pagina sportiva parleremo del Vasto Girardi, parleremo ovviamente del Campobasso e del calcio regionale pronto a ripartire. A tra poco. Lo sport e il calcio di Lega Pro dovevamo essere più lucidi, meno ingenui. Nel primo tempo la partita era in pugno e mancato solo il gol. Sono le parole del tecnico del Campobasso, Mirko Cudini, che ha analizzato la sconfitta di sabato sera contro il Taranto, sconfitta in casa al Romagnoli. Sentite allora le sue impressioni ai nostri microfoni. Forse qualche tenuta palla o qualche lucidità in più dalla tre quarti di campo in avanti, soprattutto nel solo tempo, sì, questo potevamo averlo. Abbiamo sprecato qualche palla, qualche situazione per creare qualcosa di importante, questo sì. proprio il resto, una squadra che al primo tempo ha prodotto gioco, credo abbia giocato non dico a senso unico, ma ha avuto la partita in pugno, gli è mancato solo il gol e su questo sicuramente dobbiamo lavorare su noi stessi, più cattivi, più determinati, più incisivi, questo sì, perché poi dopo non basta giocare bene e alla fine il Taranto ha fatto la sua partita, si è saputo difendere, non è capitolato nel primo tempo e quindi ha colpito nel momento forse giusto per loro, quando siamo rimasti in dieci e quindi dopo per noi si è fatta in salita, però devo dire che fino al 95esimo la squadra ci ha creduto, abbiamo avuto l'ultima occasione con Tengoran, con George, che poteva avere miglior sorte, mi dicono un fallo di mano che poteva essere evidente, però dopo gli episodi sono questi e quindi però già sono due in due partite, poi il calcio di rigore domenica scorsa ad Avellino e poi oggi non visto dall'albitro, però non ci attacchiamo sicuramente a questo, ci portiamo via una buona prestazione nonostante una sconfitta, però ci portiamo via grossa rabbia per aver deluso anche noi stessi in primis come risultato e anche la gente che nonostante ci abbia applaudito, però sinceramente volevamo dargli soddisfazioni diverse. Lavoriamo anche in questa direzione, questo è chiaro, non possiamo fare 90 minuti a mille all'ora o sempre sul piede sull'acceleratore, questo sì, credo che oggi si sia anche visto, nel primo tempo c'è stato intorno alla mezz'ora, abbiamo abbassato un attimino perché non potevamo andare sempre, quindi mi ha cercato di abbassarci un attimo e poi ripartire in questa situazione, questo sì, però ho poco, ho poco, sinceramente mi porto via grosso rammarico, questo è chiaro, non siamo contenti, non siamo contenti perché abbiamo visto e i ragazzi sono coach che ogni domenica possono giocarsela, abbiamo incontrato l'Avellino che è una delle prime, abbiamo incontrato il Taranto che sarà una alle pari nostre, credo, come ne ha promossa, quindi abbiamo visto che possiamo giocarcela, però dobbiamo essere sicuramente più attenti in alcune situazioni, l'ingenuità dell'espulsione è una di quelle forse, quindi dobbiamo migliorare, maturare, questo sì, la gestione della partita credo che si possa avere, non è un problema, ci lavoriamo, questo sì, sinceramente sì. Rimanendo in 10 abbiamo preferito di tenere due riferimenti alti con due punte invece che abbassarci 4-4-1, ci abbiamo provato, questa è stata un'alternativa, oggi sicuramente gli esterni sono stati un po' penalizzati dall'espulsione perché i vari Vitali e i vari di Francesco che hanno fatto bene domenica scorsa quando sono entrati, oggi non hanno avuto l'opportunità ma perché abbiamo attuato un sistema diverso, abbiamo cercato di rimanere alti con due attaccanti tenendo l'equilibrio sia dietro che in mezzo al campo, quindi questa è stata la scelta, poi con bontà sicuramente si poteva anche uscire, è stata la facendo, però ci serviva pericolosità, ci serviva in quel momento calcio, ci serviva prendere inerzia dalla partita, quindi le scelte sono state queste, ma non toglie che chi non è entrato non era adatto alla partita assolutamente, abbiamo cercato di avere più densità centralmente che sugli esterni quindi abbiamo preferito due attaccanti, questa è stata la scelta Risultato condizionato dal gesto, da una leggerezza del difensore Cristian Fabriani lo vedete da queste immagini, sono chiarissime Fabriani che si è scusato sui social, sono consapevole dello sbaglio fatto ha detto del danno creato alla squadra, società e tifosi, non cerco giustificazioni anzi sono qui per metterci la faccia, prendermi tutte le mie responsabilità il mio gesto è stato scorretto, ma soprattutto un gesto che non mi rappresenta mi dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci senza poter lottare e dare l'anima in campo insieme a loro, dispiace soprattutto aver deluso il fantastico pubblico che in questi mesi è sempre stato al nostro fianco chiedo umilmente scusa a tutti, compagni, staff, società e soprattutto ai tifosi l'unica cosa che posso fare, che ho sempre fatto, è quello di stare in silenzio lavorare, crescere, aiutare la squadra questo è il messaggio di Cristian Fabriani che però rischia ora tre giornate di squalifica da parte del giudice sportivo scendiamo di categoria, andiamo in serie di perché è stato un fine settimana l'insegna degli amichevoli per il Vasto Girardi che sabato ha affrontato la primavera del Benevento con il risultato finale di 3 a 3 con il primo tempo che si è chiuso 1 a 2 in favore dei ragazzi del Benevento col punto della bandiera segnato da Guadalupi allo scadere sul rigore scatto d'orgoglio nella seconda frazione di gioco con il Vasto Girardi che ha risposto colpo su colpo e si è riportato sul 3 a 3 grazie a Sganzerla e Guida per il Benevento i marcatori sono stati invece Sorrentino Rossi e Malva 24 ore dopo, cioè ieri, il Vasto Girardi invece ha affrontato il Formia a formazione di Serie D 1 a 2 al termine dei 90 minuti è stata decisamente una partita molto tosta il primo tempo si è chiuso sul pareggio con reti di Zonfrilli al 28esimo e di Mingiano al 30esimo su ottimo assist di Cardinali poi nella ripresa Baione ha messo a segno il 2 a 1 definitivo anche in questa seconda gara sono arrivate indicazioni molto positive per l'allenatore Prosperi che dunque lavora in vista dell'esordio in Coppa Italia in programma il 12 settembre ed è pronto a ripartire è già ripartito con la Coppa Italia ma si prepara ad iniziare anche in campionato sia per l'eccellenza che per la promozione dunque il calcio regionale è pronto ad iniziare una nuova avventura ne abbiamo parlato è pronto ad iniziare una nuova avventura in piena sicurezza ne abbiamo parlato con il dottore Felice Di Donato esperto consulente della federazione e componente del Comitato Tecnico Scientifico del Molise lo ha intervistato Francesco Presutti siamo col dottore Felice Di Donato ecco Felice appuntamento importante non solo per quanto riguarda i calendari e quindi proprio l'aspetto calcistico ma anche e soprattutto per quel che concerne soprattutto in questo periodo l'aspetto sanitario l'aspetto sanitario è preeminente stasera è una giornata di festa perché ricominciano praticamente le attività sportive del calcio molisano e chiaramente dobbiamo fare i conti con la pandemia con l'evoluzione che ci sarà e con tutte quelle situazioni che man mano evolveranno noi speriamo in maniera positiva e che l'esortazione che posso fare da questi microfoni al di là del mio intervento di stasera esortare tutti alla vaccinazione lasciando stare polemiche lasciando stare praticamente tutta una serie di atteggiamenti che non sono proprio corretti e da popolo civile qual è il popolo italiano quindi questa situazione è una situazione sicuramente da dialogare col dialogo le evidenze scientifiche ci dicono che chi ha fatto la vaccinazione le possibilità di ammalarsi sono molto molto esigue anche chi è vaccinato può essere contagiato dalla variante delta ma non sviluppa una malattia importante non viene ricoverato nelle parti di degenza non va in terapia intensiva e non succede nient'altro quindi io penso che l'esortazione che deve avere da questi microfoni è soprattutto questo vaccinare cercare di allargare quanto è più possibile il polo della popolazione vaccinata in modo tale che evitiamo che il virus si propaghi ed evitiamo anche le varianti che tipo di protocollo è previsto per quanto riguarda l'inizio dell'attività beh insomma c'è un protocollo diverso per quanto riguarda a livello nazionale per le squadre professionistiche serie A, serie B, serie C quindi il nostro campo bass e il calcio femminile di serie A e invece per quanto riguarda il calcio dilettantistico giovanile è un protocollo diverso ma che è sempre articolato nella prevenzione nei dispositivi di prevenzione individuale che è articolato praticamente nella vaccinazione che è articolato con il Green Pass che è articolato con tutta una serie di prevenzioni che riguardano il gruppo squadra il gruppo arbitri la sede dove si svolgono gli allenamenti e dove si fanno le partite c'è una maggiore responsabilità a livello anche dirigenziale delle società sportive che sono coinvolte in prima persona devono nominare dei responsabili insomma c'è tutto come posso dire c'è tutta una catena c'è tutta un'evoluzione che si sta sviluppando fino adesso il calcio molisano si è comportato abbastanza bene quindi noi speriamo che in questa stagione 2021-2022 possa proseguire questo cammino la nostra vita è cambiata è cambiato anche lo sport è cambiato ovviamente anche il calcio ci dobbiamo abituare a queste situazioni oppure più in là potremo respirare tra virgolette di più ma noi lo speriamo lo auspichiamo certamente siamo in una situazione diversa rispetto a un anno fa ma non penso che tutto si esaurirà nel giro di poco tempo ci vorrà ancora del tempo dobbiamo assimilare alcuni altri i nostri comportamenti dobbiamo modificare la nostra vita quotidiana e dobbiamo stare molto attenti io penso che però con capacità con costanza e soprattutto con grande attenzione riusciremo a superare questo periodo di difficoltà chiudiamo parlando di Futsal torna il grande appuntamento con il quadrangolare città di Campobasso evento nazionale di Futsal giunto alla terza edizione la cremes organizzata dal Cus Molise si svolgerà il 18 settembre al Pala Unimol ed oltre al CNL Cus Molise vedrà al Via il Napoli di A ed altri due team di A2 come Viscubbio e Tombesi Ortona ad anticipare l'evento al mattino il clinic città di Campobasso dal titolo fase difensiva e fase offensiva nel Futsal e nel calcio con al tavolo relatori di grande spessore quali il tecnico del Napoli Piero Basile il tecnico molisano Fausto Scarpitti e l'ex bandiera del Campobasso oggi docente nel settore tecnico della FGC Marco Maestripieri a moderare l'incontro il professore Germano Guerra delegato del rettore per lo sport andiamo in serie B altro nome nuovo per lo sporting Venafro alla corte del tecnico Tavone arriva anche il campano ex azzurro di Futsal Marco Varriale Venafro ha dichiarato il giocatore passato per degli interventi importanti e per me l'occasione di dimostrare di poter essere all'altezza dei campi nazionali il mio obiettivo realizzare il maggior numero possibile di reti per questa squadra in campo Varriale si disimpegnerà da laterale bene è tutto anche con lo sport grazie per averci scelto è tutto arrivederci grazie